73 metri siamo su un grosso pass nella parte nord di nonu atol sempre la mia 63 13 ji da rotante con release reel slow jigging oggi dovremo fare delle discrete catture perché anche se il mare è un po grosso diciamo che stiamo reggendo abbastanza il corpo nonostante queste onde lunghe che vengono e danno un pochettino noia poi i ragazzi hanno già fatto delle discrete catture hanno preso appena un wow vediamo adesso di fare qualche bel pesce che non sia un pesce che taglia ma qualche bel gt o forse anche qualche bel dento di cane eh ferrè 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 ok 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 Vieni qua dove sono io Dai 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 L'hai già spaccata una eh Ahhhhh Ahhhhh Vieni qua dici L'hoa Non devi fare con la Dai 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 Anche se in fai mai. Perchè vai, che troppo tutto apri un filino un po' Vai, zi, a lui, zi. Occhio a chi si parte, vai di là, vai di là, passa di là, passa di là con la canna, ok, vieni, vieni, come la barca, no, la barca, tocca ancora, tocca eh, tocca la barca? Sta toccando la barca o no? Dagli una mano, Massimiliano, per favore, metti giù la canna e dagli una mano, non vedi che è in punta? Marco, quel filo lì è dentro la barca? Ok, perfetto, perfetto. Ok, perfetto, perfetto. No, Massimiliano, sì, sì, sì. Vai, Massimiliano, Massimiliano. Tanto lui comunque la barca di certo non la può muovere, quindi, metti l'anima in pace, vai tranquillo, assolutamente no, con l'onda qua, dove vai indietro? un po' il piedistallo se tu riuscissi a scalare è molto sotto tocca la barca il filo no se è quasi dritto ok il problema è che la corrente va così queste canne qua mettile là il piedistallo per favore il piedistallo 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 è stato il problema è che non riesce a tirarlo di mulinello perché è dritto così no, vai, vai 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 ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai tranquillo è sponpo e viene un po' fatica, la canna è leggera, è la 200 grammi, la 5913, la rotante che è quella che usiamo da slow jig, in effetti l'XZog è la 5913, ci ho fatto anche bel pesce, però sai quando poi diventano pesanti diventa un problema canna, mulinello perfetto, canna, mulinello si tu adesso riparte ma, riparte sicuro, appena vedi la barca riparte sicuro, è uno squalo eh, non sarà, non è enorme ma è uno squalo, hai cavo d'acciaio? no vai l'ha preso due scherzi, l'ha preso shark, 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 shark wow, wow shark 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 vai adesso, vai adesso che non va non fa nemmeno io però fai 20 cm per volta, due giri vai, due giri vai, ok poi massi se vuoi evitare che di perdere le gambe spostati guarda cosa fa adesso quando viene in su guarda quelle canne la, lui lo mette qua nel bordo eh certo uno tè uno da Onda Occhi la barca Occhi la barca